Ciao a tutti, sono finito su un tetto e c'è tanto vento, allora parlerò poco, vi mostro un po' il panorama. Grazie a tutti. Ed ecco qui il bellissimo, siamo sul, no siamo, io, solo io, sono sul tetto di un palazzo qui in centro a San Pietroburgo. C'è un gran vento, ripeto. Ci sono diversi posti che si può salire sul tetto, che è il centro della città. Vi mostro da dove sono uscito, vedete lì la gente che sale, spero si veda. Questo è un bel posto molto caratteristico della città, ci sono tanti piccoli bar, esposizioni, mostre. Vedete qua sono, c'è arte veramente unica a questi gatti. Aspetta, non so se li vedete, sì, adesso li vedete. Una bellezza unica merita. Non posso parlare di che c'è tanto vento, vi mostro ancora solo la chiesa per l'ultima volta. Dov'è? Ah, eccola l'info, la metto proprio al centro, adesso, adesso la metto a fuoco. E basta, non c'è tanto altro. Ah, più in fondo, più in fondo si vede la cupola di un'altra chiesa. Spero si riesca a vedere. E vi saluto perché vi sto congiuntando. Buonasera, ciao.